I Relative Value Certificates appartengono alla categoria dei certificati e capitale totalmente o parzialmente protetto e si distinguono da tutti gli altri certificates in quanto permettono all'investitore di scommettere sull'andamento relativo di un sottostante rispetto ad un altro ed è proprio per questo motivo che prendono il nome di Relative Value. Questa loro peculiarità li rende interessanti agli occhi di chi, nell'incertezza dei mercati, preferisce coprire una posizione long con una posizione short, come farebbe il signor Formica, o viceversa coprire una posizione short con un long, come farebbe il signor Gambero. Per questo motivo potrebbero essere adatti in realtà anche il signor Bradipo che pur avendo una visione neutrale sul mercato potrebbe ritenere interessante scommettere sul rialzo del differenziale tra un asset long, in cui crede di più, ed un asset short, in cui crede meno, col vantaggio di avere una protezione sul capitale investito. I Relative Value consentono dunque all'investitore di trarre profitto dalla differenza di rendimento tra due indici azionari o tra due titoli azionari e di proteggere parzialmente o interamente, a scadenza, il capitale investito, a seconda della percentuale di protezione prevista in emissione. Questi certificati non implicano dunque che l'investitore debba indovinare la direzione sottostante e permettono di ottenere un rendimento positivo a scadenza alla sola condizione che il titolo o l'indice in posizione long riesca a performare meglio, o quantomeno non peggio, rispetto a quello inserito in posizione short. A scadenza, l'importo rimborsato all'investitore viene determinato in modo diverso, a seconda della differenza di performance ottenuta dai due indici o titoli sottostanti. Facciamo un esempio per spiegare questo calcolo. Prendiamo il certificato emesso da Banca Aletti, il 29 luglio 2011, avente scadenza il 29 luglio 2015, il cui sottostante long è l'indice Eurostock 50, con valore iniziale di 2670 punti circa, ed il cui sottostante short è il nostro indice FTS MIB con valore iniziale di 18359 punti circa. La protezione è fissata al momento di emissione nel 95%. A scadenza, occorre fare la differenza tra la performance dell'indice long e la performance dell'indice short. Se questo è maggiore di meno 5%, che si ottiene sottraendo il 100% alla percentuale di protezione, l'importo rimborsato è pari a 100, più o meno la differenza tra la performance dell'indice lungo e la performance dell'indice corto. Se invece a scadenza la differenza tra la performance dei due indici è inferiore o uguale al meno 5%, l'importo liquidato è pari comunque al 95% del nominale. Se ad esempio questo relative value scadesse oggi, sto registrando questo video l'11 marzo 2014, avremo i seguenti dati. L'Eurostock 50 quota circa 3093 punti, perciò la performance del sottostante long sarebbe pari a 3093 meno 2670, quindi 427 punti sul valore iniziale dello strike è circa il 16%. L'FTS MIB quota invece 20750 punti, perciò la performance del sottostante short sarebbe pari a 20750 punti meno 18359 che aveva l'indice al momento dell'emissione, quindi 2399 punti, sono circa il 13% dal punto di partenza. Il certificato rimborserebbe circa 103, pari al nominale più la performance dell'Eurostocks meno la performance dell'FTS MIB. Se questo valore risultasse inferiore a 95, che pare al livello di protezione, il certificato rimborserebbe comunque 95, che è appunto un importo minimo garantito a scadenza.